Potremmo andare su una cosa di questo genere, non troppo moderna, vuol dire che in realtà questo colore mi ispira, e qui si potrebbe fare tipo così, devo vedere un attimo dove è la porta, ah non ho fatto la porta, facciamola subito prima di dimenticarci, dove è la porta? Quella che uso di solito, ok? La mettiamo sempre qua, ok? Allora, no, facciamo, che la mettiamo qui? Ok, togliamo di nuovo, ok? Per quanto riguarda il lavandino, vediamo se c'è qualcosa, qui? Allora, il lavandino, oh questo è carino, non so se si abbina però perché di legno, abbiamo una cosa di questo genere forse, non so se sto abbinando molti colori in realtà, perché dovremmo mettere una luce, una luce, mettiamo una lampada ecologica, non è, vediamo, beh, queste lampade ecologiche per essere ecologiche illuminano tutto, beh dai, ci sta come, come, davantino, oh questo è carino, molto carino, il riflesso di una bambina, è preoccupante, comunque, mettiamo sempre sul marroncino, gli asciugamani perché non possono mai mancare, gli asciugamani, direi di mettere anche qua un ferro da stir, visto che non so ancora bene dove metterlo, ma c'è solo di questo colore, sul blu, beh perché qua non è, qua ci sta, vediamo, dai ci postare, e ok, dai, no, 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 sto lasciando, ok, ma anche al forder, cosa fondamentale direi per un bagno io li sto provando tutti queste cose ecologiche, nuove che ho trovato mi salirebbe anche la partigenica che non trovo più ah eccola io non capisco una cosa ma di partigeni che ci sono c'è solo questa che per carità è pur sempre una partigenica ma mi sembra un po' misera comunque vabbè io continuo a togliere i muri ma non riesco a capire se potrebbe essere finita oppure no oh mi dà così fastidio la partita così adesso la giro ok dovrei mettere qualcosa qua magari ci mettiamo un quadro perché no? perché no? un quadro ma che cosa si che cosa si trova? allora un quadro beh un quadro un po' che dire insignificante ma questi sono quelli giganti possono prendere quelli più piccoli che comunque carini piccoli no questi non fanno che mi dispiace mi dispiace cioè è tipo 8 episodi che sono qui a creare sim e arredare e non ho ancora giocato quindi ditemi se siete magari stufi e volete che inizi a giocare che taglierò tutta questa parte in caso contrario continuerò a fare episodi dove arredo perché mi piace molto arredare oggi sono un po' stanca quindi se sentite anche che sono un po' cotta perché è da giugno che lavoro anche resta e quindi sono un po' un po' fuso sì direi proprio di sì di sì oh ma che carino questo bellissimo non lo so mi sa proprio da non lo so che carino ma da solamente ne metto due è troppo carino però non so se questa roba diario mi convince io lo cambierei oggi metterei qualcosa oltre belle queste luci no ogni volta mi si sposta adesso noi facciamo così io direi di metterci questo in stile questo però lampadario proprio quindi vediamo se lo trovo come sono le lampadario eccoli qua sarebbe tipo questo credo o se no questo beh ci sta bene anche questo ok direi che va bene per la camera qui a fama detto la camera della della nonna no e qui invece della ragazza se non sbaglio l'ho fatto vedere di nuovo io comunque ascolto tutti i consigli che mi date quindi se volete darmene io sono qui allora devo allontanare perché il microfono fa qualche problema con il telefono allora non ricordo più in che video è ok la madre vicino al bagno e la figlia nell'altro sempre ovviamente da in pigiamanti libri in coma quindi dimmi se pronuncio male il nome dimmelo anche così ok allora direi che va bene allora scambiamo le stanze quindi questa qua la farò più in stile della nonna ricordiamoci sempre che nel gioco è la madre ma per me è la nonna allora se c'è una cosa che mi dà fastidio è mettere le finestre per prime perché voglio decidere alla fine dove metterle ma purtroppo non ci vedo niente quindi devo metterle per forza intanto togliamo questa modalità che se no non vedo niente e anche queste finestre comunque non sono male allora innanzitutto qua si potrebbe mettere l'armadio visto che c'è proprio il buco giusto mi è detta così non facciamo commenti ah ce ne sono di nuove anche i cassettoni contenitore contenuto mi fanno sempre un sacco ridere le descrizioni di The Sims comunque facciamo qualcosa di un po' particolare oh che carino questo ah ma è piccolo è piccolissimo tipo se ne potrebbero mettere due credo vediamo come sta no 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 mi piace niente togli questo è troppo grande mi pare si ma è questo di questo genere non mi piace il colore però si potrebbe fare anche magari sul chiaro mettiamo già la luce che non vedo niente questo è molto carino ok e ti vedrei anche uno specchio questo è piccolo che si chiama specchio miracoloso non volevo mettere un bello specchio tipo gigante però così ma questo non è mai ah no è molto grande in realtà però troppo potremmo fare tutto è un po' grande allora possiamo mettere questo e poi metterli un altro magari più grande in qualche altra parte tipo qua ma potremmo mettere così e un altro così ecco il letto in realtà sto pensando di metterlo qua però il problema è che c'è la finestra allora il letto intanto scegliamo quale quale letto fare cosa di questo genere cambiando colore magari mettiamo sull'alzorrino non ci sta per niente bene perfetto è così dai così non ci sta male vuoi cosa dinti dai secondo me magari più scuro no scuro non mi piace scuro non mi piace ah non trovo più quello di prima mi sono persa io ma non lo trovo più questa 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 dai devi lasciare questo anche se in realtà non mi convince questo angolo accogliente però la finestra dietro non ha più senso anche se ha il super che però non ha molto senso comunque noi mettiamo sempre nel dubbio il ventilatore ok so che è un'aggiunta fondamentale cosa ti serve in questa stanza la cuccia andiamo la cuccia la cuccia direi che queste sono anche molto grandi oddio allora no la mettiamo simple simple molto simple cioè bianca però è gigante mi sa che non ci sta neanche che fail troppo grande niente prendo quella più piccola la prendo azzurrina perché perché c'è la lampada ok niente comunque posso sempre metterla qui tanto comunque la signora non penso di farla mettere con qualcuno quindi nel frattempo direi di fare così il corridoio ci penso dopo nel frattempo abbiamo appunto la stampa della ragazza andiamo ovviamente subito le finestre perché non ci vedo un cacchialino come sempre allora e pensare un attimo qua mi ispirava tipo la finestra così molto carina molto mi piace e poi ci mettiamo anche subito magari la luce la luce magari possiamo metterla così e la metterebbe qua ok 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 adesso mi spizzarrisco per i letti perché ho già visto qua che c'è il letto scomparsa e io sono già follemente innamorata allora la ragazza comunque è grande ce ne è senso non dico vabbè non si dice una certa età perché comunque avrà una ventina no di più tipo una trentina d'anni ecco quindi vive ancora con la madre sì però quindi stavo pensando una cosa di questo genere così può avere sia il suo salotto diciamo privato che appunto il letto questo è troppo grande non lo giriamo dall'altra parte cioè così che non sarebbe male sì vorrei solo cambiare colore perché perché cambia solo quello qua cosa cambia da questo azzurro no non è comunque il colore delle finestre no decisamente no vabbè però direi di lasciare questo già ci sta e poi diventa un letto quindi secondo me è molto carino soprattutto poi perché è girato verso la finestra quindi è molto carino azzurro